La vela in chiusura, Domenico Lamante, 16enne atleta della Lega Navale Italiana di Pescara, ha ottenuto a Cagliari il titolo di campione italiano Under-19 nella classe Laser Radial. Dopo le ottime prime due giornate di gara e i problemi nella terza, Lamante si è imposto con una gran prova nel quarto e ultimo giorno, avendo la meglio anche del campione del mondo di categoria. Ascoltiamolo. È stato un campionato lungo sicuramente, comunque quattro giorni di regata sono sempre impegnativi, le condizioni del tempo hanno permesso di disputare quasi tutte le prove del campionato, quindi comunque c'è stato un bel confronto in una flotta molto competitiva come quella del Radial. È stato un campionato difficile ovviamente, è iniziato bene ed è finito bene, ho mantenuto la prestazione. Quali sono le caratteristiche che secondo te, in base alla tua esperienza di campione italiano, sono le cose che servono per emergere sull'Ase, per essere un buon laserista? Più l'aspetto fisico, più l'aspetto mentale, la tattica? L'aspetto fisico e mentale sono fondamentali per questa classe, che si chiede tutte e due, è molto importante, comunque soprattutto per continuare a crescere sempre bisogna amare quello che si fa, per lavorare tutti i giorni e migliorare su ogni aspetto. Cosa vuoi fare da grande? Sicuramente inseguire il sogno del velista e cercare di continuare.